Grazie a tutti per la partecipazione di questo campionato provinciale di Scacchi, è presente il delegato provinciale che non ha potuto partecipare, la partecipazione è stata così così, ci si aspettava una cosina di più, comunque l'anno scorso erano 25, siamo oggi, va bene, allora cominciamo con la prima femminile, Verde Daniela. Premio di fascia, siamo ancora sul colore verde, Giuseppe Verde, prima di morte, sotto i 1.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 3.500, 3.500. Aggiungi quella, perciò. Allora, questo è il risultato, già lo ritriamo. Siamo atta anche di Ferrelli Daniele, primo sotto i mille otto, sempre con tre punti. Il primo degli under 16 dell'Accademia... Il primo degli under 16 dell'Accademia molto solido del nostro circolo, Carogero Zarba. Grazie. 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 Grazie.